La 23esima Erocas Conference, stiamo arrivando, siamo pronti. È quasi un anno che sto in compagnia delle vostre mail, delle vostre app, delle presentazioni, in questo nostro dialog dove, oltre alle parole, passiamo il nostro entusiasmo, la nostra anima, la nostra voglia di comunicare, incontrarci, vedere crescere, trasformare. E siamo arrivati in prossimità dei nostri eventi. E io porto negli occhi, guardando e scorrendo il sito con i vostri volti sorridenti, con la molteplicità della vita, ogni sguardo un mondo, ogni mondo ricco di gioia, dolori, sangue, sudore, lacrime, voglia, desideri, bisogni, paure. Vedo l'umanità, vedo il nostro viaggio insieme e vedo quanto sia onorevole questo nostro incontro a ci per condividere, per cercare di dare il nostro contributo. Vi vedo e vi sento, fratelli e sorelle d'animo, e sono profondamente grato del tempo che già abbiamo trascorso in questo scambio e che trascorderemo insieme in questi prossimi giorni. Volevo mandarvi questo messaggio, auguravi benvenuto prima del vostro arrivo. Sono qui ai margini della location dove ci incontreremo. Sto holding the space, presidendo lo spazio. Sono certo che forterete tutto voi stessi. La normalità è la straordinarietà del nostro piccolo uomo, del nostro grande viaggio, della nostra piccola donna, della nostra idea. Faremo dialogare, danzeremo, celebreremo, scambieremo conoscenze ed esperienze. Vi attendo, with love. È un pensiero a chi voleva esserci e non ci può essere, è un pensiero a chi ha scelto di non esserci, è un pensiero a chi ancora si sta interrogando se partecipare o meno, o a chi ancora non lo sa. Vi attendiamo in questo kairos, in questo spazio che si schiude, nel quale potremmo celebrare in un'ottica a confessionale, a dogmatica, transculturale, mondocentrica, dove c'è spazio per ogni comunità, ogni viaggio, animato da occhi chiari, mente vuote e quale legge li attende. Grazie a tutti.